La nazionale italiana al giro del Trentino Melinda con tanti giovani e un insostituibile uomo squadra come lo ha definito il Citti Cassani. Ma lo ringrazio per queste parole, cosa dire, sono qua con entusiasmo insieme a questi ragazzi giovani che hanno tanta voglia di imparare, si è visto da subito già da ieri con mille domande. E niente, lo scopo per esempio oggi è di fare la Crono al meglio delle nostre possibilità, di conoscerci bene e perché no, di fare magari un buon risultato. C'è qualcosa che ti ha sorpreso di questi ragazzi? Sono molto giovani rispetto a me, quindi li vedo un po' timidi, però cerco un po' di stemperare la tensione, questa cosa con due battute e due chiacchiere. Abbiamo avuto un gap generazionale con le altre nazioni, però penso che adesso con i nuovi giovani che ci sono, da Nibali in poi, da Aru, da questa gente qua, abbiamo comunque anche noi uomini che possono veramente farci vedere un futuro roseo. Gli obiettivi stagionali del giovane Paolini? Imparare il più possibile da questo mestiere, no, a parte di scherzo. Da questi ragazzi magari? Da questi ragazzi, no, ma si può imparare anche da loro. No, niente, la prossima gara sarà il Giro d'Italia e poi vedremo un po' con la squadra i nuovi obiettivi.